Salute a tutti, bentornati ad Ippocrate, il diritto alla salute. Noi quest'oggi ci occuperemo di diritti, i diritti nostri di avere farmaci sempre più sperimentati, sempre più sicuri, sempre più efficaci e però anche i diritti degli animali su cui molto spesso si fa la sperimentazione di questi farmaci, insomma ad essere trattati con umanità, diciamo così. Oggi cercheremo di capire la forte contrapposizione delle associazioni animaliste contro la sperimentazione appunto sugli animali dei farmaci. Poi parleremo di narcolessia, una malattia che fa letteralmente addormentare molte persone nel nostro paese e parleremo ancora rispetto ai diritti negati, quelli dei portatori di handicap. Benvenuto al nostro primo ospite, è collegato con noi da Bologna, eccolo qui, benvenuto al dottor Giuseppe Plazzi che proprio a Bologna ha organizzato un importante congresso sulla narcolessia. Dottore, 25.000 persone in Italia ad un certo punto cadono in sonno. Sì, la caratteristica della narcolessia è proprio di provocare dei colpi di sonno, degli episodi di sonno scherzamente preavvertiti ed altri sintomi bizzarri. Ma 25.000 dovrebbero essere i pazienti secondo i dati epidemiologici. In realtà poco più di 1.500 pazienti hanno la diagnosi. Hanno questo tipo di diagnosi che è una diagnosi di malattia rara, dottore, vero? E quindi ci si mette tanto tempo per stabilire che si tratti veramente di narcolessia. Esattamente così, in Italia e in Europa in generale, non siamo indietro al resto dell'Europa, il tempo medio per arrivare a una diagnosi è di 7 anni, quindi un tempo lunghissimo, contando che questa malattia esordisce spesso nel bambino e nell'adolescente e crea dei problemi enormi. Allora, problemi enormi, lei insomma prima ha detto, ha fatto riferimento anche a degli atteggiamenti, a delle situazioni un po' così bizzarre. Che cosa voleva dire? Che di fianco alla sonnolenza, che contraddistingue questa malattia, le persone, i bambini che hanno questa, che hanno la narcolessia, hanno dei cedimenti muscolari scatenati dalle emozioni. Questo fenomeno si chiama cataplessia e altri fenomeni ancora, che sono le paralisi del sonno, la incapacità di muoversi nel momento in cui si addormenta, o nel momento in cui ci si sveglia, e delle allucinazioni, che sono veri e propri, in questo caso, sogni ad occhi aperti. E anche questi possono essere causa di diagnosi, potete immaginare quanto sbagliate. Dottor Plazzi, chi è che soffre di questa patologia? C'è una certa predisposizione, un fatto genetico? Viene naturalmente nel corso della vita ad alcune persone? C'è una predisposizione genetica e un fattore, ancora ad oggi sconosciuto, scatenante. C'è stata una segnalazione pochi mesi fa di un aumento di casi nei paesi scandinavi a seguito della vaccinazione per l'influenza su INAH1N1. Quindi è probabilmente una malattia autoimmune, con una importante predisposizione genetica. Dottor Plazzi, come si interviene sulla narcolessia? C'è una cura? Ci sono dei farmaci? Beh, in questo caso la prima cura è la diagnosi. Ci sono tantissime persone che non hanno la diagnosi e l'informazione sui sintomi è una cosa importantissima, perché le persone si riconoscono quando sentono parlare addormentamenti, cadute scatenate dalle emozioni, allucinazioni, paralisi del sonno, sono notturno disturbato, questi sono i sintomi che fanno la diagnosi. E questo è il primo passo. E infine, se noi dovessimo trovarci di fronte a una persona che vediamo ad un certo punto crollare come nel sonno, mentre magari sta mangiando, mentre sta parlando con noi, e quindi una persona con narcolessia, che cosa dobbiamo fare? Che atteggiamento dobbiamo avere? Dobbiamo intervenire in qualche modo o è meglio evitare? No, non bisogna intervenire fisicamente sulla persona, ma bisogna sicuramente invitarlo ad andare a una consultazione da uno specialista del sonno, perché la narcolessia è una malattia veramente sconosciuta, soprattutto ai medici, devo dire. Grazie a Dottor Plazzi che è stato con ad Ippocrate.